alla darsena borghese continuano i lavori per l'ammodernamento di uno dei luoghi più belli e romantici della città dopo il fermo di alcune settimane causate dalla quarantena covid degli operai in questi giorni proseguono spediti gli interventi di riqualificazione che comprendono la passeggiata nuove panchine luci sceniche e l'abbattimento delle barriere architettoniche per un costo di 250 mila euro il cantiere per questo primo stralcio che ricordiamo sono tre arriverà fino al ponte ferroviario fra l'altro poi ci saranno anche altri interventi che porteranno la proiezione di immagini sulla parete opposta alla darsena quindi diventerà un luogo lo è già molto affascinante ma lo sarà ancora di più ma l'obiettivo è quella di arrivare passeggiando fino al faro e a giorni stipuleremo anche la convenzione con rfi per la realizzazione del sottopasso di via nazario sauro che consentirà di andarci a piedi in sicurezza e ci consentirà anche di fare il nuovo il secondo stralcio con l'intervento del nuovo sottopasso ci spiega il sindaco seri verrà abbattuto il vecchio casellino ora in disuso e lasciato all'abbandono regalando così in quel punto della passeggiata una piccola piazza a due passi dal canale i lavori di questo primo stralcio dovrebbero finire salvo imprevisti a fine luglio